Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui a Malta in compagnia di Poker Italia Web in occasione del Poker Live Adventure che sta per iniziare 10 minuti al via, come vedete primo livello 25,50 con la durata dei livelli di 35 minuti. Come sentite dal speaker, i giocatori sono stati chiamati a prendere posto ai tavoli e andiamo a vedere anche l'altra sala del torneo, quella dove verranno allestiti i tavoli dall'1 al 15. Vi ricordo che in totale saranno aperti 17 tavoli, quindi già da adesso possiamo intuire quanti saranno i giocatori presenti a questo primo appuntamento in occasione del dei 1A. Noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti della sala, come vedete i giocatori iniziano a prendere posto, mi raccomando seguiteci numerosi, pokeritaliaweb.org per la cronaca live dell'evento. Ciao a tutti!